Possiamo partire. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere tornati presto dopo il caffè. Ho il piacere e l'onore di coordinare questa sessione a cui tengo particolarmente, che ha un nome bellissimo secondo me perché oggi parliamo di sovranità e di democrazia energetica. E' un tema su cui discorriamo molto, abbiamo fatto una campagna referendaria contro le trivelle qualche mese fa, abbiamo girato tutta l'Italia, ci siamo raccontati tante cose in piena continuità e in piena coerenza con quel tour. Eccoci in quest'altro tour a continuare a parlarne, anche se qualcuno dice che abbiamo perso il referendum, secondo me aver portato 13 milioni di persone ad esprimersi su questa cosa e averne parlato tantissimo in giro per tutta Italia non afferisce assolutamente al mondo della sconfitta, anzi. Questo tema mi è carissimo perché poi alla fine è quello per cui ho sconvolto il mio percorso universitario, ho deciso che l'energia era il cuore di tutti i problemi. E come ci ha ricordato ieri sera Pippo Civati, annunciando questa sessione, la sovranità energetica porta con sé un mucchio di cose su cui noi stiamo lavorando come partito e ciascuno di noi ha a cuore tantissimo. Per l'energia noi siamo sotto ricatto da paesi con le mani insanguinate, abbiamo ricordato l'Arabia Saudita, abbiamo ricordato l'Egitto, ma ci sarebbe da ricordare un sacco di posti, ci sarebbero personaggi tipo Putin, insomma voglio dire c'è poco da immaginare ed è tutto molto noto, noi non possiamo alzare la testa contro persone che potrebbero chiuderci i rubinetti dei combustibili fossili di cui siamo ancora molto dipendenti e questo non ci consente di essere né autonomi e né ci consente di non essere complici delle peggiori nefandezze che succedono in questo paese. Adesso siamo tutti, chi non pensa all'ISIS, al terrorismo, al Medio Oriente e quanti di noi sanno perfettamente di essere pienamente colpevoli, pur non volendolo, di tutta questa situazione e qual è il modo che abbiamo di uscire da questa trappola? Il modo in cui possiamo uscire da questa trappola è proprio renderci autonomi dal punto di vista energetico, chiudere questi rubinetti, chiudere questi ricatti e tra l'altro lo possiamo fare in un modo che porta alle nostre comunità un benessere diffuso e partecipato, toglie le risorse dalle mani di pochi e le mette nelle mani di tutti, toglie i profitti dalle mani di pochi e lo trasforma in benessere per le mani di tutti, l'energia diffusa, l'energia distribuita questo possono fare ed è probabilmente uno dei motivi per cui i poteri di solito non sono d'accordo a consentire che questo accada. è meglio tenere centralizzato, è meglio fare grandi opere, grandi impianti perché così si possono distribuire i soldi ai pochi e soliti noti e tenere invece tutto un tessuto produttivo, un tessuto sociale, un tessuto di partecipazione a margine e far finta che siano cose di nicchia che riguardano molto pochi. Allora noi vogliamo dire, l'abbiamo sempre detto, che le rinnovabili, l'efficienza energetica, la chimica verde, l'economia circolare, sono quelle che portano lavoro, sono quelle che portano benessere diffuso, sono quelle che rimettono in circolo l'economia. Non è una nicchia da aggiungere ai discorsi che si fanno, ai vari capitoli della politica che viene sempre per ultima. Questo errore noi non lo vogliamo fare più perché l'ecologia la vogliamo mettere al centro, al centro del dibattito, qualsiasi sia il nostro dibattito, perché sappiamo che è al centro in realtà e quindi è anche al centro della nostra capacità di essere cittadini attori di quello che ci accade intorno e non consumatori e passivi che subiscono quello che viene deciso altrove. In questo contesto quello che abbiamo visto dal nostro governo non ci è piaciuto per niente, nel senso che quando si è conosciuto Renzi alla ribalta nazionale parlava delle rinnovabili al 50%, parlava dell'ecologia, parlava di un sacco di cose molto belle, ecco ne ha parlato, ne ha parlato tanto, c'è questo spauracchio del Green Act che quando lo nomino Francesco Ferrante fa tipo Frau Brücher, avete presente, così, perché si contano i mesi da cui è stato lanciato il primo tweet, quanti sono? 2 gennaio del 2014 e quindi il discorso è che siamo stati abbastanza presi in giro da questo punto di vista e ci siamo abbastanza scocciati, comunque da quando ha iniziato a essere il Presidente del Consiglio che parla di questa cosa non è mai assolutamente successo e al contrario, quello che fa questo governo è quello del, avete presente le tre scimmiette, le tre scimmiette quelle del, quelle che non vedo, non sento e non parlo, no ecco, questo fa il nostro governo perché non vede il fallimento, comunque fa finta di non vedere, il fallimento per cui le politiche che hanno governato l'energia, le grandi opere, la gestione dei rifiuti hanno portato fino a qui e questo punto dove siamo a un punto fallimentare dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale e dal punto di vista energetico, quindi si vuole far finta di non vedere che quello che accade è esattamente la conseguenza delle scelte che si sono fatte in passato e queste scelte invece vengono perpetuate, vengono continuate, sappiamo tutti no, le grandi opere, gli inceneritori, le autostrade, le trivelle, come in un disco rotto che però dagli anni 60 non ha avuto più nessuna modifica malgrado quello che è successo. Allora noi, questo governo fa finta di non sapere che c'è un clima che cambia, no, questo ormai è sotto gli occhi di tutti, la conferenza di Parigi ha messo le fossili dalla parte sbagliata della storia e noi non possiamo far finta che questo non sia accaduto, continuando a sostenere che il gas dei quattro pozzi dei nostri mari è fondamentale e strategico per il nostro paese e con un'altra mano tenendo fermo il settore del biometano che è rinnovabile, che si produce dai rifiuti organici e che invece in questo paese ancora non è possibile produrre perché c'è una normativa bloccata da circa tre anni. Quindi con una mano si dice una cosa e con l'altra si tiene a freno un mondo che potrebbe completamente cambiare le cose. E quindi, ah poi bellissimo, questo governo però devo dire che ci dà sempre spunti per dire cose nuove. L'altro giorno il comitato referendario per il Sì è stato in grado di dire che se vince il Sì caleranno le bollette elettriche del nostro paese. Poi c'è tre volte Natale, festa tutto il giorno, c'è questa roba qui. Io se fossi in Lucio Dalla mi sentirei comunque di dover chiedere per i miei eredi del copyright perché insomma qui a spararla alta ci si fa una bella corsa. Se il governo volesse veramente agire sulle bollette energetiche avrebbe in mano tutti gli strumenti per farlo senza nessunissima riforma costituzionale e anzi quello che sta facendo va completamente al contrario di questo. Il primo atto di questo governo è stato lo spalma incentivi. Non so se qualcuno di voi l'ha sentito nominare ma vuol dire che ha tagliato retroattivamente gli incentivi riconosciuti per impianti alimentati da fonti rinnovabili. Un contratto bilaterale tra un privato e lo Stato italiano è stato rimodulato in maniera unidirezionale. Allora forse è questo che spaventa gli investitori. Non credo che sia come diceva il simpatico ambasciatore degli Stati Uniti la Costituzione. Se non cambia la Costituzione gli investitori se ne vanno. Da mo' che se ne sono andati gli investitori? Con la Costituzione che avevamo prima. I tagli retroattivi agli incentivi, il fatto di non garantire i contratti stabiliti con lo Stato ed è la stessa cosa che sta facendo adesso sistematicamente il GSE, il gestore dei sistemi energetici. Sull'efficienza energetica sta facendo la stessa cosa. Sta tornando indietro sui contratti già stipulati, li sta tagliando, sta mettendo alla canna del gas moltissime aziende che si occupano di efficienza energetica di questo Paese quando si dice che dovrebbe essere uno degli aspetti strategici dello sviluppo di questo Paese per questo motivo. Allora il problema è quello, è una stabilità normativa che non c'è, è una continuità di strategia che non c'è, è una strategia che non c'è, la continuità è già un concetto più filosoficamente complicato. Quindi è questo che fa scappare gli investitori, non certo una riforma costituzionale e la bolletta se si volesse potrebbe essere abbassata agendo sulla tariffa energetica, su come viene stabilito il prezzo dell'energia perché in questo momento le rinnovabili lo abbassano ma il beneficio se lo prendono i distributori e a noi cittadini fanno credere che le rinnovabili costano tanto. Adesso avremo modo di vedere come ma insomma lo racconterà chi lo vive quotidianamente. Ma insomma i motivi per cui questo settore non parte in Italia sono nelle mani del governo e invece di rimuovere gli ostacoli ne mette in continuazione di nuovi, è un boicottaggio continuo per il settore industriale, professionale migliore e più promettente di questo Paese. Poi dice non sento, non sento perché con gli operatori del settore che avrebbero tante cose da dire su come scrivere le leggi su che cosa ci vorrebbe effettivamente perché non sono soldi, è il sistema regolatorio che servirebbe. Per esempio adesso hanno bocciato un emendamento che era stato proposto dal senatore Girotto che diceva di poter fare delle piccole reti elettriche in isola senza dover necessariamente essere collegati alla rete ai principali distributori e produttori, piccole reti in isola che avrebbero consentito di fare degli investimenti su impianti alimentati e fonti rinnovabili, gestire l'energia a livello più locale, a livello molto in maniera più smart, più intelligente regolando insieme chi produce e chi consuma in una logica appunto di investimenti più piccoli e di benessere distribuito. Ecco questo emendamento non è passato quindi fare una cosa del genere è ancora una costruzione complicatissima che in molti casi non si può fare. Il governo non vuole sentire gli esempi che indicano che tutti gli altri paesi stanno cambiando rotta. Il primo investitore al mondo in questo momento è la Cina. La Cina è il più grande investitore in termini di efficienze energetiche e rinnovabili. È vero che è anche perché non respirano più nelle città. Il modello che stiamo portando avanti, che diciamo che è quello che ancora è necessario, è quello che ha portato in Cina le persone a non poter respirare. È quello che fa ammalare decine di migliaia di persone nel nostro paese. In Italia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sono 84.400 morti all'anno per cause legate all'inquinamento. Quindi di questo stiamo parlando di un nemico enorme, non stiamo parlando di una cosa di nicchia. Allora gli effetti delle scelte su questo piano sono una cosa quotidiana che ciascuno di noi vive nella propria quotidianità e hanno a che fare con tutte le scelte, tutti gli aspetti della nostra vita, mentre quando se ne parla si relega sempre a un angolino minuscolo come se fosse una cosa di cui non possiamo occuparci. Quindi io direi che come cittadini attivi, come persone che vogliono partecipare, questo non possiamo assolutamente più consentirlo. E non parlo, il governo non parla, non parla di queste cose, non parla di questi temi. Vi ricordate sotto il momento delle trivelle, no? Quante bugie sono state dette e ieri ce lo ricordava il professor Viroli. Quando io mento vuol dire che non credo nella dignità del mio interlocutore. Quindi se qualcuno ci mente su questi temi vuol dire che crede di poterci prendere in giro. Ecco questo sui temi dell'energia, sui temi dell'ambiente lo vediamo quotidianamente. Adesso non so se avete sentito, c'è questa polemica sulla RAI che sta stravolgendo tutto il palinzesto, no? E che cosa fa? Ha cancellato come prima azione, ta, su R3 non c'è più Scala Mercalli. Non so se l'avevate eseguita ma è stata l'unica trasmissione che in prima serata, facendo un milione di share tra l'altro, quindi una trasmissione di successo, ha parlato di cambiamenti climatici ma non ha, addirittura lo chiamavano il gufo con il farfallino Luca Mercalli, no? Allora visto che a noi gufi ci stanno sempre simpatici, ci hanno fatto sempre simpatia, questa cosa invece la usavano come insulto, no? Perché essere saggi, avere una visione notturna, ampia poter girare la testa di più degli altri per guardare le cose da una prospettiva più ampia, non vuol dire essere saggi, in questo paese vuol dire portare sfiga. Comunque, quindi Luca Mercalli già ci stava simpatico prima, da quando l'hanno definito gufo ci sta ancora più simpatico e ha fatto una trasmissione che è piaciuta anche al grande pubblico che parlava delle soluzioni alternative che esistono, attenzione ma se esistono le soluzioni alternative io forse potrei pretenderle, cioè potrei non cadere nella trappola delle persone che mi dicono che non c'è alternativa, potrei passare da quelli che dicono non è vero che non c'è alternativa, l'alternativa c'è ed è fatta così e allora no, meglio di no, meglio non avere problemi, meglio che quelli che sanno che c'è l'alternativa siano pochi, un po' rompiscatole, così li debelliamo facilmente, allora via, Scala Mercalli troppo fastidiosa, i cambiamenti climatici esistono ma chissà tagliamola, Ambiente Italia, hanno tagliato la trasmissione Ambiente Italia che da quanto tempo era? Da vent'anni? Da vent'anni parlava ma neanche del clima, delle questioni ambientali, della tutela dell'ambiente, anche in maniera molto leggera facendo vedere le bellezze del nostro paese, del nostro territorio, anche lì, attenzione, essere innamorati del proprio territorio potrebbe voler dire, volerlo difendere, è un po' pericolosa questa cosa qua perché se poi devo fare un inceneritore è meglio che le persone non siano troppo affezionate al proprio territorio, è meglio che non sappiano che un ciclo rifiuti zero ben fatto con gli impianti giusti e non con questi mostri è possibile e le tecnologie esistono, meglio di no. Allora anche qui tagliamo via tutta l'informazione, parliamo solo di cose leggere, di cose futili in modo che le persone non possano essere informate e non possano contestare le scelte che vengono fatte. Ecco, quindi noi invece che la nostra dignità di cittadini e la nostra competenza venga riconosciuto ce l'abbiamo come desiderio forte e chiaro e quindi io sono molto contenta che in questo politica ci sia la possibilità di confrontarsi e la possibilità di ascoltare da persone che di questi settori si occupano da tanto tempo e hanno sicuramente delle cose importanti da dirci, perché poi l'altro problema è che nei territori vanno dette bene queste cose, quindi è importante questa autoformazione, è importante che ci si metta in relazione e si possa discernere, perché anche qui l'ambientalismo in Italia è stato spesso portato su fronti conservatori sul fronte del no, quindi qualsiasi cosa si muova su un territorio, no, non lo voglio e non lo voglio allora c'è un impianto che deve trattare la forza o la frazione organica dei rifiuti, un impianto che può produrre quel biogas di cui parliamo prima, che può produrre il biometano di cui parlavamo prima, che quindi chiude trivelle, che quindi chiude rubinetti verso i paesi che non ci piacciono, però è un impianto, allora fare subito il comitato, il comitato dell'impianto non lo voglio, no, qualsiasi cosa sia non lo voglio, che è comprensibile la preoccupazione del territorio, però chi si occupa di politica deve essere in grado di aiutare a discernere, perché ci sono degli impianti che vanno fatti e sono necessari, che portano risoluzione dei problemi ambientali, che portano lavoro e che portano futuro, altri impianti ovviamente no, però qual è il problema? Se io non faccio tutta una serie di impianti che servono, poi a un certo punto qualcuno tirerà fuori un inceneritore, è sicuro, quando non una centrale nucleare, allora pensiamoci bene, informiamoci, stiamo insieme e raccontiamoci che cosa è veramente utile per i nostri territori e che cosa no. Allora io adesso lascio la parola a Francesco Ferrante, che ci parlerà, a cui ho chiesto di raccontarci un po' che cosa succede a livello internazionale, quindi che cosa significano gli accordi di Parigi, che cosa stanno facendo gli altri paesi, che cosa c'è in movimento sull'economia degli altri paesi, proprio per dimostrare che appunto non stiamo parlando di micchie, stiamo parlando di un futuro che è possibile. Francesco Ferrante è stato direttore delle Cambiante per un mucchio di anni, adesso è vicepresidente del Chiodo Club, è stato senatore della Repubblica, insomma di curriculum ce n'ha abbastanza, è uno dei fondatori di Green Italia e per ultimo è quello che un giorno mi ha detto, senti ma ti va di fare la portavoce di Green Italia? Da cui poi è iniziato tutto, tra cui l'avvicinamento è possibile, quindi è colpa sua. Adesso gli lascio la parola, grazie. Io non ho capito perché ci hai invitato, perché hai detto tutto tu, per cui potremmo finirla qua, diciamo, senza problemi. No, io provo a sviluppare soltanto questo pezzo di ragionamento che già Annalisa ha fatto sulla questione internazionale, per dimostrare che su questa questione, contrariamente a molte altre su cui noi dobbiamo, tutti noi, il possibile, il vostro partito vuole occuparsi, è una di quelle questioni che ha un vantaggio, che ciò che è giusto, ciò che serve per costruire una società in qualche maniera più desiderabile, più democratica, in cui ci sono appunto una distribuzione di poteri più equa e anche ciò che è più conveniente. E non sempre così, ci sono tanti altri aspetti in cui, diciamo, la battaglia che si deve fare per una società più giusta si scontra contro forze, poteri e, diciamo, è un andamento della storia che andrebbe in una direzione opposta. Faccio l'esempio dell'emigrazione, dei problemi che i migranti comporta e come vorremmo noi costruire una società più giusta e più accogliente e quanto questo sia difficile nei fatti, nella concreta realizzazione e nel consenso che devi costruire sui territori. Beh, sulla questione energetica è il contrario, cioè quello che noi proponiamo, cioè lo spostamento, la fuoriuscita dall'era del fossile per marciare verso un'era in cui si fonda su energia rinnovabile che in quanto tale deve essere distribuita e diffusa, è anche la cosa più conveniente. Vi faccio due esempi perché cerchiamo opposti politicamente ma che forse rendono meglio l'idea. Obama non è un ambientalista, non nasce ambientalista ed è nemmeno un estremista, è uno molto prudente e moderato. Non è un ambientalista, infatti sulle politiche energetiche per esempio ha consentito che si facesse molto fracking, che è quella tecnica che serve andare a pescare il gas con dei meccanismi dal punto di vista ambientale anche controversi e discutibili, ma l'ha consentito. E non è nemmeno un radicale, per esempio una battaglia agli ambientalisti americani storica che era quella contro un oleodotto che dovrebbe arrivare dall'Alaska fino a giù in Florida, prima di vietarlo, come chiedevano gli ambientalisti con forza, Obama ci ha messo 6-7 anni. Quindi è uno molto prudente. Però detto questo, Obama ha caratterizzato questi suoi ormai 8 anni in conclusione di presidenza e tra le sue parole d'ordine prioritarie, non una cosa di lato, prioritarie quasi quanto Obama Care o un'altra cosa del genere, era l'impegno degli Stati Uniti contro i cambiamenti climatici, per le energie rinnovabili e compagnie belle. L'ha fatto concretamente. Il fotovoltaico negli Stati Uniti d'America oggi pesa 30 volte tanto quanto pesava all'inizio della presidenza di Obama, posso continuare a fare altri esempi, ha incentivato le rinnovabili, sta spingendo moltissimo sull'accumulo, sulle batterie, insomma fa delle politiche concrete a difeso le prerogative dell'Agenzia di Protezione Ambientale negli Stati Uniti, questo è un problema molto importante perché i repubblicani vorrebbero sempre ridurre quei poteri per ampliare i poteri dell'Agenzia di Protezione Ambientale contro l'inquinamento a carbone, ad esempio. Perché ha fatto questo? Perché ha capito che qualsiasi politica voglia dare di sé un'idea di futuro, di speranza, di cambiamento, di progresso, non può che essere intrinsecamente ambientale, che è quello che assolutamente manca totalmente a questo nostro governo, l'ha detto prima Anna Lise ed è evidente dagli atti che ha fatto in questi tre anni. L'altro esempio internazionale che vi faccio, opposto dal punto di vista politico e che forse meglio di qualsiasi altro spiega perché dovrebbe essere così conveniente fare quella battaglia, è quello di Angela Merkel. Angela Merkel è la leader europea che ovviamente non è della nostra parte, è dall'altra parte, è il centro-destra, è l'austerità, è l'Europa arcigna che vorremmo cambiare. Eppure Angela Merkel sulla strategia di cambiamento del modello energetico della Germania sta continuando a puntare, è stata quella che ha deciso l'uscita dal nucleare, è stata quella che dopo gli accordi di Parigi ha deciso di mettere in piedi anche il programma per l'uscita dal carbone, che in Germania continua a pesare moltissimo e come l'ha fatto spingendo sulle rinnovabili. Perché quello che è il punto essenziale è che oggi l'innovazione tecnologica consente di trasformare in energia, energia elettrica, energia termica, quello che viene dal sole, dal vento, dall'energia rinnovabile a costi sempre più competitivi e non c'è leva più forte. Io siete tutti amanti dei social e lo trovate facilmente su Twitter perché l'ho tweetato stamattina. C'è una cartina che fa vedere i costi, i prezzi a cui sono aggiudicate le ultime aste sulle rinnovabili in giro per il mondo. La fonte è l'International Energy Agency, la cosa più istituzionale del mondo ripresa dall'Enel, per cui proprio siamo tranquilli. Quei prezzi variano dai 28 dollari ai 50 dollari a megawattora e dovete sapere che noi in Italia in questo momento, oggi, sul prezzo dell'energia elettrica nella borsa, non quanto lo pagate voi che è molto di più, ma nella borsa è 60 euro a megawattora. Quindi già adesso, già oggi, mentre noi parliamo, in alcune aree del mondo dove c'è più vento, dove c'è più sole, ovviamente, però il costo di produzione di energia elettrica è gran lunga, inferiore, se usiamo le rinnovabili rispetto a quello che continuiamo ad avere se usiamo il carbone, il gas e tanto più il petrolio. Quindi la convenienza sta nei numeri. Allora è la politica che si sta facendo in questo Paese negli ultimi anni, che è quella che Annalisa ha descritto e su cui non torno perché ne condivido ogni parola. È una politica non soltanto sbagliata, ma è proprio tafazziana e impedisce, cioè, lo sviluppo a quelle imprese che oggi qui sono rappresentate da Paolo Rocco Viscontini, che parlerà dopo di me, ma che sono tante in questo Paese, che quando avevamo messo in campo un meccanismo forse sin troppo generoso di incentivi, sono state le uniche imprese, le uniche imprese che in questo periodo di crisi economica hanno attivato quello che si dice un percorso anticiclico, per parlare come piace agli economisti, cioè che nel momento di crisi invece assumevano, costruivano lavoro, davano risposta di sviluppo. Quella cosa è stata interrotta bruscamente con lo spalma incentivi, con le altre iniziative sciocche e sbagliate che sono state prese da questo governo e vanno in controtendenza rispetto a tutto quello che succede nel mondo. Il mondo va da un'altra parte, le fossili sono fuori alla storia perché lo sono fuori dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Noi quindi avremo una straordinaria occasione per costruire un mondo che è innanzitutto più pulito, lasciatemi dire, che innanzitutto combatte i cambiamenti climatici che sono non più una minaccia per il futuro ma una drammatica realtà del presente e vorrei che questo fosse ben presente a tutti noi, ma che oltre a questo imperativo etico ha con sé la possibilità di costruire lavoro, costruire sviluppo nella maniera che piace a noi ovviamente e costruirlo nei territori diffusamente, toglierlo dalle... è proprio l'immagine di come si produce energia elettrica che lo rende forse più facile da capire. Si studiava a scuola, c'era la grande centrale termoelettrica da 800 megawatt, produceva questi megawatt elettrici che venivano poi trasportati con le grandi elettrodotti, a fronte di questo c'è la possibilità di costruire tanti impianti diffusi, ognuno di noi può diventare già oggi in questo paese mezzo milione di famiglie, sono produttori di energia elettrica grazie al fotovoltaico, ognuno di noi può diventare non solo consumatore ma anche produttore e qui è la questione della democrazia su cui diciamo ci avete chiamato a parlare e avete intitolato questo dibattito perché è del tutto evidente che se diventiamo produttori oltre consumatori facciamo saltare uno dei meccanismi di potere che finora ha governato la nostra società. Perché è chiudo su questo, la questione delle rinnovabili e della generazione distribuita non è che di per sé è una cosa buona, perché anche gli impianti come diceva Annalisa alla fine anche gli impianti e le rinnovabili vanno fatti bene, anche il bene va fatto bene, non si possono fare delle cose, in questo paese le abbiamo viste, delle cose sbagliate anche sulle rinnovabili, quindi tutto va fatto bene e con criterio, ma è un'occasione straordinaria di cambiamento anche politico. Allora se una forza politica come possibile capisce che questo non è una delle cose che vanno messe nel programma, ma è una chiave di lettura e di interpretazione della realtà e della proposta di cambiamento, beh io credo che il possibile faccia un grande piacere a se stessa e questo non va affatto male, ma anche al paese e al cambiamento della politica in questo paese e Dio sa quanto ce ne sarebbe bisogno. Grazie. Volevo presentarla con l'altro microfono ma non sono riuscito a accenderlo in tempo, Paolo Rocco Viscontini che è il presidente di Italia Solare, un'associazione nata per evitare di farsi travasare di bile ogni 4 secondi e di combattere questo status quo, ma è anche uno dei primi imprenditori del fotovoltaico in Italia che ci lavora da molto prima del conto energia e degli incentivi potenti, insomma uno di quelli che ci crede. Grazie Paolo. Grazie a te Anna Lisa, grazie dell'invito e effettivamente appunto sono stato chiamato qui per condividere quella che è un'esperienza personale da un lato e poi anche un'esperienza adesso di rappresentanza a livello associativo grazie a questa organizzazione nuova perché ha poco più di un anno che si chiama Italia Solare. In realtà ho sempre partecipato attivamente ad associazioni che difendevano il settore in momenti diversi in questi ultimi 15 anni per quello che è successo al nostro settore. Giusto dire adesso comincio con due parole su Italia Solare in quanto un anno e mezzo fa circa in diversi devo dire appassionati convinti non solo perché è un lavoro ma perché è anche una convinzione nonché una passione quella delle energie pulite e ci siamo detti ma adesso cosa succede dopo che il settore era stato sostanzialmente annientato nel giro di uno o due anni è stato io credo lasciatemi usare una parola un po' forte però uno scandalo che è passato sotto traccia in assoluto un settore che aveva creato decine e decine di migliaia di posti di lavoro dava quindi da mangiare a decine di migliaia di famiglie perché si parla i numeri esatti nessuno li sa però da qualche statistica qualche valutazione almeno intorno agli 80 mila persone minimo erano impegnate nel fotovoltaico molti diranno ah ma certo era tutto un piano però di incentivi super generosi sprechi speculatori mafiosi ce ne hanno dette di ogni è vero poteva essere fatto meglio però intanto aveva creato un qualcosa qui la situazione paradossale è che si sono investiti si stanno ancora pagando si pagheranno per diversi anni diversi miliardi di euro di incentivi che però ci tengo a sottolineare non sono solo un costo ma anche un ritorno anche per la collettività stessa in primis dal punto di vista ambientale e in secondo luogo come diceva prima analisa hanno anche un impatto tutti questi impianti perché riescono a ridurre il prezzo di mercato dell'energia quindi il bilancio avevamo fatto anche dei conti e sostanzialmente non dico un pareggio ma quasi e però ecco dicevo l'assurdo è che è stato fatto tanto è stato fatto a volte bene a volte male però poi si è buttato tutto alle ortiche tutto che cosa tutto quello che di buono era stato fatto dal punto di vista di settore industriale che dava occupazione aveva creato un know-how straordinario l'italia insieme alla gervania era leader in assoluto a livello mondiale bene noi grazie a quello che abbiamo fatto noi adesso sono gli altri che stanno sfruttando i nostri investimenti questo è un dato di fatto il fotovoltaico è sceso di prezzo in una maniera straordinaria come poche altre tecnologie beh forse i computer per esempio cellulari un impianto che solamente 4-5 anni fa costava 5-6 mila euro a kilowatt quindi il classico impiantino per dare un'idea di una famiglia era sui 20-22 mila euro 18-21 mila euro ecco esattamente ora 5 mila 6 mila euro lo si può fare e noi cosa facciamo adesso che abbiamo questa possibilità ci sono ancora tanti spazi beh da noi si è fatto tutto il possibile per non installare più o ridurre drasticamente le installazioni negli altri paesi dove non hanno fatto non hanno avuto conto energia non hanno fatto investimenti come le abbiamo fatti noi stanno crescendo stanno investendo e grazie a un fotovoltaico che costa poco e costa poco grazie a noi e alla Germania questo è la verità poi la Germania pure lì è sceso parecchio il mercato ma non ai nostri livelli cioè per darvi un'idea in Olanda paese che è più piccolo sostanzialmente della regione Lombardia la regione da cui vengo si fa quasi il doppio di quello che si fa in Italia e abbiamo 11 milioni di tetti solo di case, case mono e bifamiliari senza contare poi ci sono 3 milioni circa di condomini e sono circa 4-500, intorno al mezzo milione ecco le case che hanno un impianto fotovoltaico per carità è un bel numero però nel momento in cui abbiamo preso una strada perché non proseguire soprattutto poi quando conviene, quando non c'è più bisogno di incentivi ma poi non è solo un peccato perché c'è meno energia pulita che in realtà potremmo già avere oggi senza spese ulteriori ma appunto è un settore importante che viene meno io nella mia esperienza ho dovuto in un anno e mezzo scusate a volte mi commuovo pure però licenziare 150 persone eravamo tra le prime 5 aziende al mondo e abbiamo lottato in ogni modo ma era impossibile e non era un continuo, ogni settimana quasi venivano fuori provvedimenti contro il fotovoltaico questo perché? Perché alla fine abbiamo pestato i piedi, questa è la verità abbiamo pestato i piedi di chi ha le centrali termoelettriche e che di botto da un momento in cui per anni ci hanno trattato come questi estremisti ambientalisti che tanto vabbè sognatori mi ricordo ma intanto io da analisa si ricorda ci siamo incontrati tanti anni fa appunto quando assolutamente la parola fotovoltaico era una parola sconosciuta e ci trattavano appunto come dei pazzi visionari che ci dicevano ma al massimo arriverà allo 0,1 o 0,2% del fabbisogno elettrico del paese dove volete andare però di botto si sono trovati con l'8% del fabbisogno elettrico italiano che arriva dal fotovoltaico che poi attenzione è un valore medio 8% vuol dire che in questo momento che tra l'altro è un weekend quindi le fabbriche alcune sono chiuse purtroppo anche durante la settimana molte sempre di più però nei weekend ovviamente lavorano di meno in una giornata come questa possiamo tranquillamente dire che il 50% in questo momento arriva dal fotovoltaico ci sta sarà intorno ai 36 gigawatt o 40 gigawatt no meno siamo intorno ai 32-33 gigawatt un 16 gigawatt circa dove staranno arrivando il momento è buono la temperatura sì, è caldo ma neanche tanto quindi gli impianti stanno lavorando bene 50% vuol dire che la metà delle centrali termoelettriche che solamente fino a 4-5 anni fa lavoravano adesso sono spente e i numeri sono cambiati i numeri di alcuni bilanci beh, non sono rimasti con le mani in mano nel momento in cui hanno visto certi numeri così impattare sui loro conti economici e quindi ecco che si sono scatenati da Romani in poi e Romani escluso, lo devo dire Romani ci stava cascando al di là dei pareri diciamo di politici o meno ho avuto modo poi di seguire direttamente quel periodo così pazzo del quarto conto energia tra il terzo e il quarto conto energia Romani era portato sulla cattiva strada da alcuni poi dopo ha cercato un po' di sistemare ma dopo di lui successivamente sono arrivate le indicazioni dall'alto di un certo tipo per cui il quinto conto energia e poi tutta una serie di provvedimenti anche tecnici che hanno reso il settore assolutamente difficile e con dei crolli di mercato che hanno causato tutti i problemi che dicevo prima ma adesso guardiamo un attimino al futuro perché è ineluttabile comunque il destino della solarizzazione delle energie rinnovabili cioè quello che sta succedendo adesso in Italia è solo una grande idiozia un grave errore perché ci fa arretrare e poi però ecco ci sono le condizioni assolutamente per riprendersi e certo abbiamo perso tanto personalmente lo dicevo prima mi dispiaceva quando venivano quando alcuni prima di licenziare si dice si riunivano tutti i ragazzi dicevo ragazzi cercate lavoro perché io quel giorno della lettera purtroppo si avvicina mi sa perché non ce la facciamo cerchiamo di evitare fatemi evitare questa questa difficoltà e in molti venivano da me con con dimissione dicendo ho trovato però anche con le lacrime negli occhi dicendo io volevo lavorare nelle rinnovabili nel solare ho trovato posto nel gas ho trovato posto nel petrolio un'azienda internazionale ed era è una perdita altri sono andati a fare fotovoltaico all'estero questa è la realtà e ingegneri noi che avevamo investito tanto anche in ricerca in formazione però insomma continuo a tornare indietro guardiamo avanti allora ci siamo detti non perdiamoci d'animo insistiamo io pure nel mio piccolo insomma si si prosegue con altre ben altre scale e e a livello associativo insieme ai ai sopravvissuti ci siamo detti bene cosa cosa possiamo fare ma intanto usciamo da quell'associazione che era Confindustria in cui gli interessi erano ben altri e abbiamo fondato Italia Solare Italia Solare è io direi l'unica in tante associazioni che si concentra sul fotovoltaico perché riteniamo che questa sia la tecnologia che abbia ancora le maggiori possibilità di sviluppo e vuol dire poi non vuol dire pensare solo all'impiantino fotovoltaico ma anche a come applicare in maniera efficiente ecco questa energia prodotta in maniera pulita e qui da qui la la nostra grande attività ora nell'ambito dei degli accumuli anche le pompe di calore sono una tecnologia fantastica anche se vanno sempre ben dimensionate perché sennò rischio poi di fare a volte dei danni se uno sbaglia i dimensionamenti e quindi ecco fotovoltaico come focus principale ma anche qual è il target il target sì gli operatori soprattutto poi questi piccoli fotovoltaico è nato come è una generazione distribuita e quindi è riuscita a dare anche lavoro a tante piccole imprese che non avevano voce anche perché scrivesse alle grandi associazioni nazionali si andava da 1500 euro in su all'anno come quota bene allora abbiamo detto limitiamo a 150 euro una quota che comunque una piccola impresa può sostenere e cerchiamo un po' di metterci insieme per per dar voce ecco a tante piccole realtà che non avevano più voce che avevano molte purtroppo non ce l'hanno fatta molte comunque hanno resistito e quindi ecco queste sono da valorizzare e poi un altro target è il produttore ma con un'attenzione particolare al piccolo produttore in Italia ci sono quei circa mezzo milione di piccoli impianti che valgono circa 11-12 gigawatt ed è come una io la vedo così una mega centrale chiamiamola pure come non ci piace tipicamente una mega centrale da 12.000 megawatt peccato che peccato meglio anzi che è iperdiffusa sul territorio un impiantino da 3 uno da 5 uno da 10 uno da 100 tutti i diffusi anche lì però cosa succede non sono rappresentati hanno sofferto e soffrono tantissimi cambiamenti normativi problemi con il GSE che chi è del settore sa bene e quindi ecco nel nostro piccolo partendo da zero abbiamo detto cerchiamo di metterci insieme e dar voce a questa mega centrale diffusa perché se no succede quello che sta in realtà già succedendo sapete che la produzione da fotovoltaico è calata dal 2014 al 2015 anzi no era in quest'ultimo periodo comunque c'è un calo di qualche punto percentuale rispetto alla produzione stessa fotovoltaica e mi chiedevano perché con interviste giornali del settore beh uno dei motivi è lo spalm incentivi noi lo dicevamo attenzione non è che sono tutti speculatori ricchissimi che fanno dei grandissimi numeri con il fotovoltaico i prezzi erano sono cambiati man mano che cambiavano gli incentivi e c'erano delle equeriminerazioni in tanti casi è successo che quindi nel momento in cui l'incentivo è sceso dell'8% si sono trovati in difficoltà già magari aziende che avevano già problemi per altri motivi perché molti hanno fatto l'impianto sul tetto e il risultato non riescono più a seguirlo non ci si rompono dei componenti non ci sono i soldi per intervenire non si può più pagare regolarmente la manutenzione pian piano molti impianti si spengono e questo è un fatto ecco un esempio un effetto di certi di certi interventi quindi è importante riprendere un po' il ciclo virtuoso ci sono ancora le competenze è prezioso l'impegno ecco che vediamo oggi in questa iniziativa per dare la possibilità a chi non ha mai la possibilità di parlare in altre sedi comunque quelle diciamo con maggiore risonanza per farsi sentire per diffondere questo questo messaggio in modo che un po' tutti voi nel vostro piccolo spero che da quello che ho detto adesso magari ecco si sappia qualcosa di più e si allarghi un po' la vista mi piaceva prima l'immagine del gufo sì sì siamo tutti gufi allora ecco perché abbiamo una visione un po' più un po' più ampia però è questo è anche coscienza devo dire alla fine è buonsenso è rispetto rispetto dell'ambiente rispetto in primis della salute delle persone questi erano i motivi per cui io tanti anni fa quando ero all'università mi sono detto adesso che faccio cerchiamo di fare un qualcosa di utile e questo è ancora diciamo è ancora la spinta che mi porta e ci porta tanti non sono solo ad andare avanti mi fermo perché se no rischio anche io di essere molto prolisso e vi ringrazio poi sono disponibile qui per le domande grazie ringrazio ringrazio Paolo e aggiungo anche una cosa che gli incentivi del fotovoltaico sono stati l'unico meccanismo in grado di aiutare i territori a liberarsi del killer silenzioso che si chiama Eternit perché nessun meccanismo aveva funzionato come quello nessun bando niente soldi a pioggia nulla aveva funzionato come un extra incentivo sugli impianti fotovoltaici per poter rimuovere i tetti in Eternit ci sono ancora milioni di metri quadri di coperture di tetti in Eternit nel nostro paese che potrebbero essere una quota parte di quella centrale diffusa di cui parla Paolo Rocco e che potrebbero fare in modo che i costi sanitari per le perdite umane di vite dovute alle fibre di amianto che si liberano nell'aria se vogliamo fare un vieco calcolo economico in futuro siano ridotti e quindi voglio dire il fotovoltaico a una serie di valori aggiunti incredibili che questo paese ha deciso di troncare e quindi io in ogni sede possibile cerco di ricordare anche che il fotovoltaico si può portare dietro questo valore aggiunto qua adesso ho detto proprio nella definizione dell'intervento adesso chiudiamo cioè chiudiamo l'ultimo intervento della serie è un intervento di speranza un intervento che parla di cose che succedono già e che sono successe grazie alla forza propulsiva di questo nostro settore che malgrado tutto resiste lascio la parola a Raffaele Lupoli col direttore di Left grazie 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 Annalisa quindi oggi faccio il gufo ottimista mi prendo questo compito no in realtà quando Annalisa mi ha chiamato invitandomi sono stato al di là di essere contento dell'invito di avere questa opportunità e capitava proprio nei giorni in cui stavo un po' studiando per un viaggio che dovrò fare prossimamente in un'isola delle Canarie per lavoro purtroppo non per vacanza poverino però il lavoro andrò sull'isola di Elierro a novembre non so come è il tempo quindi per capire un po' come hanno fatto l'oro perché l'oro in pochi anni hanno scelto di passare dalla dipendenza energetica penso che sia un bel esempio proprio perché è un'isola quindi loro dovevano per forza portare gli idrocarburi da fuori importarli quindi pagarli e spendevano 8 milioni l'anno per importare il diesel solo per il riscaldamento hanno pensato che con 67 milioni avrebbero potuto diventare indipendenti energeticamente ovviamente quando hanno messo in piedi questo progetto li hanno presi tutti per matti perché gli hanno detto da dove prendiamo 67 milioni poi è bastato fare un po' di conti appunto se spendi 8 milioni di euro l'anno per importare il diesel questo investimento di 67 milioni in 10 anni rientra ampiamente e quindi l'oro alla fine per ragioni anche di contingenti c'è stata un'eruzione hanno speso in tutto 100 milioni di euro per fare questo lavoro l'hanno fatto adesso sono indipendenti da questo punto di vista energeticamente e si preparano a farlo anche con i veicoli quindi oggi possono sognare di investire 150 milioni un sogno considerato stavolta più realistico per convertire i loro veicoli e evitare altri 12 milioni di euro di carburanti l'hanno importati quindi questo per dirci che è solo un'opzione politica e che è più che possibile è già realtà infatti poi mentre studiavo questa situazione di erriero ho pensato invece a tutte le altre realtà italiane che mi è capitato di incontrare l'esperienza di Paolo e degli imprenditori di Italia Solare è una di queste l'esperienza per esempio di Melpignano del comune pugliese che ha una cooperativa di comunità che ha portato il fotovoltaico in quel territorio e che adesso si sta organizzando anche per portare il compostaggio di comunità quindi poi da pratiche virtuose nascono nuove pratiche virtuose nasce una nuova idea un nuovo modo di stare insieme dei cittadini la forma della cooperativa è una delle forme che secondo me incentiva molto questo cambiamento anche di prospettiva nel gestire questa fase importante molto innovativa se volete ha molto a che fare anche con la moda o anche con la tendenza secondo me dello sharing della sharing economy noi tutti diventiamo produttori e consumatori come diceva Francesco quindi in qualche modo siamo più protagonisti dei sistemi in cui siamo inseriti dei sistemi produttivi e quindi rispondiamo anche a quei sensi di colpa di cui parlava Anna Lisa per cui se ci produciamo un po' almeno un po' della energia che consumiamo contribuiamo in qualche modo a essere meno dipendenti da energia che arriva da posti dove per produrla si passa addosso ai diritti umani ci sono conflitti e vabbè è stato detto e non mi ripeto quindi in Italia non c'è solo questa esperienza di Melpignano ce ne sono tante vivono le difficoltà di cui abbiamo parlato finora quindi fanno più fatica quando c'è un governo che non ascolta quando c'è un governo che si parlava del referendum perso e quello è diciamo uno degli esempi della necessità di avere una democrazia diversa sul campo energetico e non solo ma l'abbiamo visto Francesco lo sa bene anche quando è stata approvata faticosamente la nuova legge sugli ecoreati le pressioni che Eni Enel Confindustria le grandi imprese hanno fatto per mantenere lo status quo per mantenere i loro privilegi i loro interessi non certo perché avevano in mente un modello di futuro diverso più democratico e più equo e quindi tenendo presente quali sono gli interessi in gioco noi dobbiamo provare da una parte a insistere per un cambiamento della politica da una parte come cittadini e in qualche modo anche come persone che nel mio caso dal giornalista raccontano i fenomeni dobbiamo provare a costruire questa prospettiva a raccontarne la fattibilità e la possibilità Paolo faceva riferimento agli impianti di accumulo alle batterie per semplificare cioè se noi riusciamo a a sostenere questo settore sosteniamo la ricerca sosteniamo un certo tipo di università di iscrizione all'università io mi ricordo ai tempi del governo Berlusconi c'era stato un rifiorire delle facoltà di ingegneria nucleare poi molti molti gruppi molte università hanno cominciato di nuovo a concentrarsi sulle rinnovabili adesso mi sembra di poter dire che si registra uno stop una flessione da questo punto di vista quindi questo per dire che in fondo l'energia è uno strumento la possiamo usare come ci pare nel senso che ne possiamo fare possiamo scegliere l'uso in base a diverse motivazioni e a diversi obiettivi se l'obiettivo è quello del profitto va bene così business as usual se l'obiettivo è quello di una società più giusta invece forse è il caso di ragionarla e usare le esperienze che ci sono il lavoro che possiamo fare in campo veramente per una nuova fase ricostituente anche in termini di politica energetica per la nostra energia questo come si diceva è foriero di vantaggi da numerosi punti di vista intanto quello strettamente ambientale che non è poco lo viviamo in molti nostri territori l'impatto dei mega impianti energetici per non parlare dei rischi del nucleare lo viviamo a livello internazionale io mi sono scocciato vi dico la verità di registrare mese per mese il record del mese più caldo della storia mai registrato tanto ogni mese ormai diciamo lo sappiamo che il mese prossimo settembre sarà il più caldo della storia si tratta solo di rimboccarci le maniche e invertire la rotta non solo per una questione ambientale che può essere vista da qualcuno come una cosa a lungo termine anche se oggi noi viviamo comunque già le conseguenze degli stravolgimenti climatici ma proprio perché è un'opportunità e questo che è stato detto ma mi preme di sottolineare la portata di questo cambiamento può cambiare quindi questo cambiamento dal punto di vista energetico può contribuire a cambiare a cambiare veramente il modo in cui stiamo nella società stiamo insieme e per questo credo che sia importante che ne abbiamo parlato oggi in questo contesto in un contesto in cui si parla di una nuova società di un no a questo referendum che non è un no di quelli che dicevamo a tutto ma è un no di quelli che aiutano a crescere aiutano ad avere un'idea di progresso che non è solo un'idea di sviluppo tecnologico ma che è un'idea di una società appunto più equa in cui l'energia ma anche il potere sono più distribuiti e i modelli energetici in campo secondo me già ci quelli che vi ho accennato già ci aiutano ad andare in questa direzione grazie grazie anche per la sintesi così abbiamo qualche minuto per eventualmente raccogliere qualche domanda insomma cosa mi farebbe molto piacere io volevo solo aggiungere due cose molto importanti soprattutto la prima è che non solo siamo tutti gufi ma in onore del luogo in cui ci troviamo siamo anche personaggetti direi e oltretutto no volevo ricordare un'altra cosa seria uno dei temi che abbiamo toccato solo lateralmente in questa sessione perché non c'era modo di parlare di tutto è senza dubbio quello dell'efficienza energetica nel comitato scientifico di possibile abbiamo lavorato con Daniela Minnetti con Davide Serafin e anche con Marco Boschini che ci ha dato una mano una revisione esterna per produrre un documento che sarà a disposizione dei comitati che aiuta proprio le amministrazioni ad affrontare questo tema perché è un tema molto spinoso molto complesso ma i numeri sono fantastici considerate che la principale fonte di spesa energetica dal punto di vista di energia elettrica di un comune di una pubblica amministrazione è l'impianto di pubblica illuminazione e questa principale voce può essere intaccata del 50 anche del 60% perché le nuove tecnologie sono mostruosamente superiori a quelle che sono installate nella maggior parte del paese la possibilità di unire l'intervento di efficientamento dell'impianto a nuovi sistemi che consentono anche un'interconnessione proprio nell'ottica di Smart City e dei vari servizi all'interno della città sono ormai di livello davvero importante e i numeri che ci sono fanno anche in modo che laddove le amministrazioni pubbliche non potessero investire direttamente per poter riqualificare gli impianti possa intervenire finanza terza cioè il privato realizza l'intervento e a valere sui risparmi che fa ottenere al comune rientra del proprio investimento quindi il comune continua a pagare quello che pagava oggi ma non per una bolletta iper gonfiata ma semplicemente per restituire le rate dell'investimento al privato finito il tempo di ritorno dell'investimento l'impianto è a disposizione del comune quindi è una cosa molto importante che nei nostri territori possiamo portare possiamo spingere quindi è un documento tecnico un bel malloppone di una ventina di pagine che cerca di affrontare gli aspetti tecnici gli aspetti normativi e gli aspetti amministrativi alla luce del nuovo codice degli appalti pensiamo come comitato scientifico che fosse uno strumento importante da mettere nelle mani dei comitati per parlare dal regno dei sogni a quello della pratica e della possibilità che mi sembra anche molto in tema con il tipo di azione che stiamo facendo insieme e grazie a tutti grazie a tutti